Il correlatore senatore Calderoni ha chiesto l'autodistazione a svolgere la relazione orale e mi ha fatto il bravo. Prego. Grazie, Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi farò un intervento a braccio, non nel senso di non avere un testo scritto, ma perché nel senso di poter utilizzare un solo braccio avendo l'altro bloccato. Pertanto chiedo scusa a lei, Presidente e colleghi, per gli eventuali errori contenuti nella relazione e per le eventuali difficoltà che troverò nella sua lettura, ma non potendo scrivere, avendo a disposizione una sola mano e avendo avuto poco tempo per prepararlo, visto che anche sabato mi hanno fatto andare in ospedale per un tagliando, la cosa è stata abbastanza complicata, soprattutto per uno così poco tecnologico come è sottoscritto. Sono stato anche in dubbio, se fare o meno la relazione, ovvero rimettermi a quella ampia ed esaustiva della collega Finocchiaro, con cui mi complimento per la completezza e la relazione fatta, ma alla fine mi sono sentito in dovere di farlo e riferire tutto quello che piaccia o non piaccia che è accaduto in Commissione, dall'inizio fino al mandato dei relatori e anche perché nessuno può dire che io non abbia dato una mano alla riforma della Costituzione, solo che oltre che la mano ci ho messo anche due vertebre e quello mi è spiaciuto di più. Mi sono sentito onorato di essere stato nominato correlatore di maggioranza, pur appartenendo all'opposizione, perché questo rappresenta il frutto del tanto tempo che io ho dedicato nella mia vita alle riforme. E di questa nomina ringrazio per la fiducia e per il coraggio la Presidente Finocchiaro e chi con lei questa scelta ha condiviso. E di coraggio ce n'è voluto veramente tanto a nominare me come relatore di maggioranza, perché era un po' come dare una pistola carica in mano a un serial killer e sperare che non facesse una strage. Ma con orgoglio oggi voglio ricordare e ribadire che la prima e unica riforma complessiva di tutta la seconda parte della Costituzione, votata per quattro volte dal Parlamento nel 2005, portava la mia riforma come Ministro delle Riforme. La riforma venne bocciata nel 2006 da un referendum popolare per due motivazioni. La prima per via di una strumentalizzazione politica da parte della sinistra, che falsamente attribuiva alla riforma finalità secessioniste. La seconda, a causa di una clamorosa ed erronea scelta tattica del Premier e del Vice Premier di allora, al secolo Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini, che vollero far svolgere il referendum dopo le elezioni politiche del 2006, perché temevano che il referendum potesse incidere negativamente sulle elezioni politiche stesse. Scelta che aveva visto come oppositori sottoscritto in qualità di Ministro e il Professor Donofrio, allora relatore della riforma. Purtroppo avevamo visto giusto sia io che Donofrio e infatti la coalizione del centrodestra perse le elezioni politiche della primavera del 2006. Due mesi dopo, conseguentemente, anche la riforma venne bocciata al referendum. Sono più che mai convinto che se si fosse votato prima al referendum e poi per le elezioni politiche, oggi la riforma costituzionale del 2005 sarebbe già in vigore e avremmo vinto anche le elezioni politiche del 2006. Oggi siamo qui a parlare di riduzione del numero dei parlamentari, di fine del bicameralismo paritario, di revisione del titolo V e di tante altre cose ancora. Ma è bene ribadire forte che tutti questi erano contenuti nella riforma di allora, anche se quella era scritta molto meglio, sia in termini di forma che di contenuti. Ma torniamo a noi. La riforma che oggi è al nostro esame, per fortuna nostra e del Paese, è un testo completamente diverso rispetto a quello proposto inizialmente dal Governo, che conteneva una serie di peccati originali. 1. Il numero dei deputati non veniva toccato e 630 deputati mi sembrano francamente troppi, sia in termini di costi, sia in termini di equilibrio del sistema democratico. 2. Il Senato, così come definito dal Governo, non aveva funzioni né legislative né di controllo, al punto che qualcuno giustamente lo definì un dopolavoro per governatori e sindaci. Si parlava genericamente di una funzione di raccordo fra Stato e autonomie territoriali, ma era evidente a tutti che non avrebbe raccordato alcunché. Era assolutamente evidente che il Senato, con queste caratteristiche, non avesse senso di esistere e che sarebbe stato meglio sopprimerlo del tutto. 3. Sulla sua composizione, poi, ci sarebbe stato da ridere se non da piangere. Per buona parte era costituito da membri di diritto con governatori regionali e sindaci delle città, capoluogo di regione o di provincia autonoma. E quindi stiamo parlando di 42 membri di diritto, a cui incomprensibilmente si aggiungevano 21 senatori di nomina del Presidente della Repubblica. Mi piacerebbe sapere chi è il genio che ha scritto questa sciocchezza e mi piacerebbe che ci spiegasse che cosa centrano 21 senatori di nomina presidenziale con un Senato delle autonomie. Una vera barzelletta. Ma ancor più da ridere viene nel leggere la distribuzione dei senatori tra le varie regioni. La Lombardia, regione di quasi 10 milioni di abitanti, avrebbe avuto sei senatori, ovvero due in meno degli otto attribuiti al Trentino Alto Adige, che conta poco più di un milione di abitanti. Quattro. Modalità di elezione indiretta del Senato, incomprensibile e priva di una reale partecipazione democratica dei cittadini. Ma non solo sulla riforma del Parlamento le cose non funzionavano. Anche il titolo quinto era una cosa berrante. Ci trovavamo di fronte a un ritorno a un centralismo totale, al punto che la Costituzione del 1947 appariva ben più autonomista e federalista di quella proposta dal Governo Renzi. So di non dire una cosa bella, ma lo Statuto Albertino era molto più autonomista della proposta del Governo. Ma allora c'era il re. Oggi il re non c'è, o meglio, non dovrebbe esserci. Ma sotto l'aspetto democratico le cose rischiavano di andare ancora peggio. Il terzo comma dell'articolo 116, ovvero il cosiddetto federalismo a velocità variabile, era stato soppresso, per cui la Regione disastrata e inefficiente avrebbe continuato ad avere le medesime competenze di quelle più avanzate ed efficienti. All'articolo 117 la materia concorrente veniva soppressa e ricondotta in toto sotto la potestà esclusiva dello Stato. Alle Regioni sarebbero rimaste le cosiddette materie residuali, ovvero niente. Dopo aver erroneamente e falsamente abolito le province, di fatto con la riforma del Governo si sarebbero abolite anche le Regioni sotto l'aspetto legislativo, trasformandole in meri enti amministrativi. A riguardo uno degli emendamenti che non ho sottoscritto, sono due, solo due non ho sottoscritto e uno è questo, con la Presidente Finocchiara, è quello relativo agli enti di area vasta, perché utilizzando la parola enti risulta evidente che la soppressione delle province è una pura finzione. Infatti, così facendo, le province continueranno a esistere cambiando solo il nome sulla facciata del Palazzo, ente di area vasta al posto che provincia, ma cambia poco. 8. Anche l'articolo 119, ovvero quello che parla di entrate ed uscite degli enti territoriali, come modificato dalla proposta del Governo, avrebbe fatto sì che ancora una volta si sarebbero premiati gli enti spreconi e si sarebbero penalizzati gli enti virtuosi. 9. Maldirà dei singoli articoli, quello che mancava completamente nella proposta del Governo, era un equilibrio di sistema, di pesi e di contrappesi. Il combinato disposto dalla riduzione del numero dei senatori, il mantenimento dell'attuale numero dei deputati, una legge elettorale come l'Italicon, che consentirebbe a un partito del 20% di conseguire la maggioranza assoluta dei seggi, grazie al ruolo dei servitori sciocchi di partiti alleati che non dovessero raggiungere il 4,5%, avrebbe consegnato nelle mani di un partito di maggioranza relativa, ma di minoranza nel Paese, la Presidenza del Consiglio, la Presidenza della Camera, la Presidenza della Repubblica, una buona parte dei membri della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché il potere di nomina dei vertici degli organismi di garanzia, e cioè un vero e proprio regime. Viste tutte queste premesse, io e la Presidente Finocchiaro, tenuto conto della discussione veramente generale e ampia e partecipata, abbiamo predisposto un testo unificato da proporre come testo base alla Commissione, tenendo conto della proposta del Governo, di quelle di singoli parlamentari o di forze politiche e dei rilievi emersi nella discussione. Il Governo, con inopinata testardaggine, pretese che fosse adottato il proprio testo senza modifiche, mortificando così il lavoro fatto dai relatori e dai commissari. Per tutelare la dignità e il ruolo del Parlamento ho presentato a sorpresa un ordine del giorno a mia unica firma, basato su 20 punti, che impegnava la Commissione a riscrivere completamente il disegno di legge del Governo. Quell'ordine del giorno, nonostante la contrarietà del Governo, fu approvato. Tutto quello che seguì non fu una bella pagina della storia parlamentare. Due senatori di maggioranza della Commissione vennero sostituiti dai rispettivi gruppi politici perché rei di aver votato il mio ordine del giorno, con buona pace dell'articolo 67 della Costituzione. Mi spiace per loro e per la democrazia, ma per fortuna 19 punti su 20 di quell'ordine del giorno hanno trovato ricepimento nel testo che oggi la Commissione propone all'esame dell'Aula. L'unico punto all'ordine del giorno che non ha trovato accoglimento è quello relativo all'elezione diretta del Senato, modalità che mi ha sempre visto favorevole perché all'articolo 1 della Costituzione si dice che la sovranità appartiene al popolo e non ai consiglieri regionali o ai sindaci. Ma comunque, se l'impostazione della riforma complessiva trovata in Commissione dovesse reggere, non mi opporrò a un'elezione indiretta, a condizione però che il momento elettivo ci sia veramente. Cosa non scontata, visto che giovedì scorso, grazie agli accordi tra Governo e Forza Italia, anche l'elezione indiretta era scomparsa e sostituita da meccanismi di nomina che con la democrazia non c'entravano nulla. Proprio quel giorno ero ancora ricoverato in rianimazione e sono scappato dall'ospedale per poter venire in Senato e fermare quell'atto impuro che si stava consumando sull'altare dell'Accordo del Nazareno. Nessun accordo bilaterale, nessuna convenienza politica, nessuna convenienza personale o, peggio ancora, giudiziaria può mettere in gioco i sistemi ideocratici e quindi è valsa la pena di mettere a rischio la propria salute per rimettere a posto le cose. Ma che cosa è cambiato rispetto al testo di partenza? La Presidente ha fatto un'illustrazione perfetta e quindi non entrerò troppo nei dettagli. E che cosa ancora deve essere cambiato? Il Senato è tornato ad essere un vero ramo del Parlamento, anche se non esprime più la fiducia. Ha riassunto funzioni legislative importanti, funzioni di controllo, funzioni di garanzia e rappresenta un punto di vero raccordo fra lo Stato e le autonomie territoriali. Il Senato, con i suoi cento senatori, di cui 95 elettivi, diventa una sintesi del Senato statunitense e di quello tedesco, anche se a decidere fra elezioni diretta e indiretta dovrà essere questa Assemblea. E viva Dio sono scomparsi i 21 senatori di nomina presidenziale. Ma non solo. Anche i cinque rimasti dureranno in carica sette anni, sono omnicomprensivi in termini di numero e allo Stato attuale, credo che nessuno se ne sia accorto, ci sia dimenticato anche di dargli lo stipendio. Quindi non percepiranno più alcunché. Si sono innalzati quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica. Anche sarà necessario raggiungere l'equilibrio fra i numeri della Camera dei Deputati e quelli del Senato rispetto a quelli oggi previsti. È stata prevista poi la possibilità di ricorso preventivo alla Corte Costituzionale sulle leggi elettorali da parte dei due quinti dei membri di ciascuna Camera, cosa che avrebbe impedito tanti errori del passato. Ricorso che, per quello che è il mio punto di vista personale, estenderei ad altre fattispeci. Si è poi affrontato il tema della democrazia diretta, anche se la materia è, secondo me, è ancora perfettibile. Si è innalzato il numero delle firme per le proposte di legge di iniziativa popolare, ma si è previsto che i regolamenti parlamentari debbano prevedere tempi certi per la conclusione della discussione delle stesse. Si è abbassato il quorum per la validità dei referendum abrogativi di iniziativa popolare, innalzando però 800 mila il numero di firme dei sottoscrittori della proposta referendaria, prevedendo altresì, a quota 400 mila firme, il pronunciamento di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale sul quesito referendario. È vero che si sono dati sei mesi di tempo per la raccolta delle firme al posto degli attuali tre, ma io però continuo a ritenere che 800 mila firme siano veramente eccessive e che il numero debba essere riconsiderato nel corso dell'esame della proposta. Ma passiamo al titolo quinto. È tornato a rivivere, con la reintroduzione del terzo comma dell'articolo 116, il cosiddetto federalismo a velocità variabile, ovvero sia quello che consente alle Regioni che hanno già dimostrato di saper governare bene e virtuosamente di poter acquisire ulteriori funzioni legislative, a condizione però, come già ricordato, che si trovino in equilibrio di bilancio. L'articolo 117, ovvero quello che definisce le potestà legislative di Stato e Regioni, è stato completamente riscritto, definendo una volta per tutte quali sono le competenze esclusive dello Stato e quelle che sono delle Regioni, stabilendo una volta per tutte il famoso ed auspicato da tutto, tutti chi fa che cosa. Una cosa non mi piace ancora nell'articolo 117, la cosiddetta clausola di sopramazia dello Stato che, così come prevista, consente la possibilità da parte dello Stato di cancellare la potestà legislativa delle Regioni nelle loro competenze anche nelle Regioni dove non ve ne sia la necessità. La clausola, così come prevista oggi nel testo, mi sembra ricordare il famoso detto che si leggeva dietro al bancone di talune attività commerciali, per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. E sarebbe paradossale che, per esempio, se una o due Regioni non fossero in grado di garantire i livelli essenziali di assistenza in campo sanitario o sociale, si volesse intervenire su tutte le Regioni e non su quelle due alla faccia del federalismo. Questo, appunto, dovrà essere sistemato. Un ottimo lavoro si è fatto sull'articolo 119, ovvero l'articolo che parla di entrate e uscite degli enti territoriali. Per la prima volta si è inserito in Costituzione il concetto di indicatore di riferimento di costi e di fabbisogni che garantiscano le miglior pratiche di efficienza, ovvero i cosiddetti costi standard. Mai più nessun Governo, come fece quello del mai rimpianto Monti, potrà cancellare o sospendere l'applicazione del federalismo fiscale. Su questo tema mi sento di dare un consiglio all'amico Renzi. Nonostante il Governo continui a smantire manovre economiche, ma tutti, ma proprio tutti, anche i maggiori esperti di economia, sanno che a fronte degli attuali conti pubblici sarà necessaria una manovra da 20 a 27 miliardi. Voi mi direte che non è vero e il Buon Renzi, che è certamente molto furbo, la manovra non la farà, ma comunque dovrà fare la legge di stabilità e i nodi verranno al pettine. I mancati tagli del Governo Letta sono stimati in 4 o 5 miliardi, le spendi-review di bondi e cotarelli che si sono perse per strada, le spese commerciali che ogni anno si devono fare e devono fare tutti e si quantificano in 5 o 6 miliardi, la parziale scopertura degli 80 euro per il 2014, la totale scopertura degli 80 euro del 2015, fanno già facendo i conti della serva ben più di 20 miliardi. Per evitare questa manovra, Renzi dovrà diventare il sostenitore più accanito dei costi standard del federalismo fiscale, perché solo con questo strumento si consentirà di recuperare quelle decine di miliardi, non andandole a prendere dalle tasche dei cittadini o dalle imprese, ma attraverso un taglio mirato degli sprechi e delle inefficienze del sistema Paese. Non voglio però più perdermi in dettagli che meglio potranno essere approfonditi nel corso dell'esame degli articoli e dei relativi amendamenti. Ora voglio fare alcune riflessioni rispetto a quello che ancora va fatto rispetto alla mia personale opinione. 1. Per poter ristabilire un vero ed equilibrato sistema di pesi e contrapesi è necessario riconsiderare il numero dei deputati. Non deve essere visto da nessuno come azione di rivalsa nei confronti dell'altro ramo del Parlamento, ma oggettivamente 630 deputati sono veramente trotti. Non solo in termini di costi, ma soprattutto in termini di bilanciamento. Un Parlamento in seduta comune che dovesse prevedere un Senato rappresentato da 100 membri contro 630 della Camera si trasformerebbe in un Parlamento bulgaro. Una proposta che ragionevolmente mi sentirei di fare è quella di una riduzione del numero dei deputati ad almeno 500, non solo perché quello era il numero previsto nella mia riforma del 2005, ma perché questo numero rappresenta il rapporto tra cittadini e eletti che si applica in Francia e nelle democrazie occidentali a noi più sibili. Due, se questa Assemblea vorrà aprire il dibattito sull'articolo 68, ovvero sull'immunità parlamentare, questa dovrà riguardare sia la Camera dei Deputati sia il Senato della Repubblica. Io sono anche disponibile all'abolizione totale, a condizione che la cosa la si faccia per tutti e due rami del Parlamento. In alternativa, io continuo ad essere convinto che l'organo che deve occuparsene debba essere una parte terza e la massima espressione delle garanzie, ovvero la Corte Costituzionale. Tre, in campo di procedimento legislativo, ovvero delle competenze del Senato, mi sembra francamente assurdo e curioso che il Senato non si possa occupare delle grandi questioni etiche che riguardano la scienza e la morale. Altrettanto inopinato mi appare che il Senato non possa deliberare sul coordinamento della finanza pubblica. Quindi, se quest'Aula dovesse decidere di prevederlo, sono disponibili anche a ridiscutere le competenze del Senato sull'articolo 81, ovvero sia sui bilanci. Cerchiamo con un po' di buona volontà di trovare un sano e giusto equilibrio. Quattro, sul 117 credo che sia ancora necessaria qualche limatura, ma senza stravolgimenti, perché se qualcuno avesse la tentazione di riportare tutto in capo lo Stato, sappia già che la riforma si fermerebbe e tutto andrebbe a carte e 48. Io non voglio ovviamente minacciare nessuno, ma non voglio neanche essere preso in giro da nessuno. Se i patti vengono rispettati, la riforma prende il volo, diversamente la riforma si schianta. Cinque, volutamente in accordo con la correlatrice, non abbiamo voluto toccare in Commissione l'articolo 138, ovvero i referendum in materia costituzionale, proprio per poterne discutere in Aula. Ma entrambi siamo convinti che i referendum relativi alle riforme costituzionali debbano potersi svolgere indipendentemente dalla maggioranza con cui il Parlamento ha approvato la riforma e se quest'Aula sarà d'accordo procederemo in tal senso. Sull'elezione diretta o indiretta del Senato mi sono già espresso e la decisione spetterà a questa Assemblea, anche se nella legge elettorale a regime dovremmo ricordarci della tutela delle minoranze linguistiche che oggi è assente nel testo al nostro esame. Mi sento però di manifestare grande perplessità rispetto alla norma transitoria prevista per la prima elezione del Senato della Repubblica. Così come oggi configurata, prefigura una grave lesione dell'articolo 51 della Costituzione che recita che tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, in condizione di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Cercherò di spiegarmi meglio. Una legge costituzionale non può attribuire ex post, cioè a posteriori, il diritto di elettorato attivo e passivo a consiglieri regionali che erano stati votati dagli elettori per fare consigliere regionale puro e semplice e non il senatore o il grande elettore di senatori. E quindi non si può con una legge costituzionale impedire a un cittadino o a un senatore uscente di potersi candidare al Senato, visto che non sapevano che per poterlo fare avrebbero dovuto prima farsi eleggere come consigliere regionale, cosa fra l'altro incompatibile per un senatore. Lo so che è una cosa complicata da capire, ma cerchiamo di non scrivere, con la norma transitoria, una riforma della seconda parte della Costituzione che non rispetta la prima parte della Costituzione stessa, perché paradossalmente staremmo scrivendo una riforma incostituzionale. L'emendamento che tratta la materia è uno dei due che non ho sottoscritto, non condividendolo. La collega è fino a chiaro in qualità di relatore e quindi intenderò presentare un emendamento a riguardo. Io francamente nella parte transitoria, ma temo che questo possa accadere a regime, rivede ancora una volta alle famose liste bloccate. Io sono otto anni che mi sento massacrare per aver scritto una legge con le liste bloccate, ogni volta l'Italico, una volta la legge per il Senato rispuntano le liste bloccate. Non dite quindi che è più colpa mia sulle liste bloccate. Per concludere, che cosa manca a questa riforma? E concludo veramente e me ne rammarico, la riforma della forma di governo e della giustizia. Ma facciamo un passo alla volta. Non voglio introdurre nuovi argomenti che rischerebbero di rallentare o fermare questa riforma. A Bergamo si dice «Pietos de niente, le mel pietos». Ma oltre che volare alto e a parlare di grandi riforme, torniamo da subito con i piedi per terra e a volare più basso. Approviamo in fretta questa riforma e cerchiamo di farla bene. Ma poi torniamo a pensare a come risolvere i veri problemi, quali relativi alla crisi, a come impedire che le aziende chiudano, a come conservare i posti di lavoro e a crearne gli nuovi e dare una speranza ai nostri giovani e a come far arrivare le famiglie alla fine del mese e non far più vivere ad ognuno di noi l'incubo di tasse insostenibile. Queste sono le riforme più grandi ed impegnative che dovremmo affrontare, anche se approvando quella al nostro esame stiamo ponendo la prima pietra per iniziare a risolvere anche tutti questi problemi. Grazie Presidente.